Buongiorno e benvenuti a questa zuppa di oggi, 28 marzo. Sui giornali la cosa fondamentale di oggi riguarda la denuncia, se così si può dire, degli industriali per la crescita economica attesa per il 2019. Ieri il Centro Studi della Confindustria ha detto che il PIL del 2019, invece che dello 0,9% che loro avevano previsto, salirà dello 0,1%. Industriali, l'Italia è ferma, economia al punto zero, dice invece Repubblica. Sallusti, forse il pezzo che secondo me è più interessante oggi, direttore del giornale, dice una cosa molto grave nei confronti di questo governo, perché la tesi di Sallusti è la seguente, cioè che questo governo sta cercando nell'immigrazione l'oppio dei popoli, cioè si parla di immigrazione, di iussoli, che per la verità mi sembra che faccia il PD e non tanto questo governo, sono delle cittadinanze ragazzini, delle non cittadinanze, per non parlare dei problemi veri che sono quelli dell'economia. Dice Sallusti aggiunge perfidamente, quota 100 vale circa 80 mila persone, diciamo pure che possa arrivare a 100 mila persone il prepensionamento rispetto alla Fornero, il reddito di cittadinanza, dice Sallusti, vale mezzo milione di persone, di cui un terzo stranieri. Cioè invece di occuparci dell'economia ci occupiamo dell'immigrazione, dei problemi sociali che ci sono per carità, ma dice Sallusti, servono per evitare il grande problema. L'unica considerazione che mi viene da fare è che probabilmente l'economia italiana sta andando molto male, c'è ragione Dario Di Vico, stanno dicendo bene Massimo Giannini e tutti quanti i grandi osservatori, però se questo governo non è affidabile nelle sue manovre economiche, e come sapete io detesto il reddito di cittadinanza e anche quota 100 la trovo assolutamente inutile nel rafforzare questo paese, se c'è da fare questa critica a questo governo ci sarebbe anche da fare la critica sulle previsioni fatte dal Centro Studi di Confindustria, che come vi ricorderete ci aveva spiegato che sarebbero arrivate le cavallette tecnicamente, cioè il rischio di rompire il meno 4% se il referendum italiano non fosse passato, quello fatto da Renzi. Insomma io trovo che il Centro Studi di Confindustria sia stato un centro purtroppo molto screditato dopo le previsioni che sono sempre state ancillari alle idee politiche della dirigenza della Confindustria, questo è il primo aspetto. Secondo aspetto, devo dire che la crescita economica italiana, se ci fosse stato un governo migliore, cioè un governo che avesse adottato politiche liberali invece che politiche assistenziali, sarebbe cresciuta certo, ma fare i miracoli con un andamento economico europeo così basso non è facile. Ve lo dico perché io penso che le ricette di questo governo siano assurdamente sbagliate, ma se fossero state assurdamente giuste in questo contesto economico, con il nostro debito che ci portiamo a presso e quindi con margini di manovra relativamente ridotti, non vi aspettate che avremmo fatto un più 12% di PIL. Comunque questo è ragionamenti con il senno, diciamo più che di poi, del se. Sulla questione politica, secondo me la cosa che ha detto Di Maio a Quarta Repubblica lunedì sera, oggi è stata ripresa da Franco e da tanti altri giornalisti, in cui la tesi è che il Movimento della Lega e di Salvini sporca le iniziative del Movimento 5 Stelle, la Tavla, non Tavla, l'America, la Cina, il re di cittadinanza, insomma sembra quasi che, dice Di Maio, che ogni volta che loro fanno qualche cosa la Lega gli fa la battutina. La cosa straordinaria di oggi è la lezioncina di Travaglio sulle sentenze cosiddette retroattive. Lui ci spiega che Formigoni, ne parla anche Fazzo che fa una specie di lettera dal carcere sul giornale di Formigoni, di tutt'altro ovviamente tenore, e invece dice Travaglio, ci si da mente, si piagnucola per il carcere nei confronti di Formigoni, non rendendosi conto che lo spazza corrotti approvato da questo governo e il motivo per il quale si equiparano i corrotti Formigoni ai mafiosi e criminali più gravi e quindi non gli si danno benefici per fare, nonostante l'età, per esempio passare una parte della sua carcerazione ai domiciliari. Ma la tesi incredibile, già è incredibile secondo me pensare che un corrotto sia come un mafioso, ma lasciamo perdere, questo è lo spazza corrotti, che questa cosa ha un effetto retroattivo, perché ovviamente quando è passata la legge Formigoni aveva già commesso i reati e secondo me in un paese civile non si può applicare una legge penale in maniera retroattiva, cioè se fra un anno mi spiegano che c'è una norma che impedisce di fare i video su Facebook e io non è che posso essere condannato perché non hanno prima quando questo era legittimo lo facevo e questo vale anche per ovviamente le posizioni carcerarie e questa posizione di buonsenso giuridico sfugge completamente a Travaglio che furbescamente ci dice che non è che Formigoni quando veniva corrotto per 6 milioni di euro sapeva che c'erano spazzacorrotti e quindi lo faceva perché c'erano delle pene basse e quindi era incentivato a farlo perché c'erano delle pene basse, quindi essendo incentivato a farlo perché c'erano delle pene basse quando le pene sono più alte che facciamo? Non lo mettiamo in galera perché ci sono le pene più alte? Insomma è un ragionamento giuridicamente assurdo. L'altra storia di giornata che è tra il gossip e la politica è la nuova storia d'amore, pare, tra Salvini e la figlia ventenne di Denis Verdini, tutti si esercitano, una notaria aspesi che dice vent'anni di distanza fanno il tipico esempio degli amori che ci sono tra i politici e le giovani, direi non solo tra i politici, poi c'è Giuliano Ferrara che dice e fa un pezzo lirico di cui non ho capito assolutamente nulla ma soltanto un senso l'ho capito, la bella che sarebbe la figlia di Denis e Verdini sarebbe la bestia e si capisce perfettamente il pezzo di Ferrara che la figlia di Verdini e sua amica gli vuole bene come tutti noi ma insomma la bestia resta pur sempre Salvini il detto il truce da Ferrara mentre Feltrino sulla stampa pone un'altra questione fondamentale e cioè dice che quando è stato incontrato all'enteprima di Dumbo, quindi l'altro giorno è andato all'opera Di Maio per farsi vedere con la sua giornalista Sarda mentre invece Salvini è andato alla prima cinematografica di Dumbo, insomma andando alla prima cinematografica di Dumbo gli hanno chiesto di cosa e lui ha detto ragazzi questi sono affari miei non mi rompete le scatole e Feltrino dice sono affari tuoi, tu sei l'uomo che ha rinunciato alle tue pravasi a petto fuori, ti fai selfie su quello che mangi ti fai selfie in spiaggia, ti fai selfie praticamente a casa mentre dormi, ti fai selfie nel letto con la Isoardi insomma sono passati i tempi di Moro che andava in spiaggia in giacca e cravatta quindi la tua politica dice non puoi pretendere privacy in nome di una nuova regia smutandata della politica non sono del tutto d'accordo con Feltrino però insomma dice lui se fai troppi selfie ti devi aspettare queste notizie e queste domande. Ultima questione riguarda la finanza, la finanza perché in borsa va a finire questa società che tutti quanti voi conoscete che è quella dei pagamenti che si chiama Nexi, 8 miliardi e l'IPO oggi diceva giustamente Corriere della Sera si tratta la più importante IPO cioè offerta pubblica di vendita sul mercato europeo nel 2019 quindi questa sarà un'italietta che noi prendiamo sempre in giro però qualche cosa di buono perché è un bell'azione che va a finire sul mercato è decisamente interessante sul fronte come si chiama Luxottica, Exilor, Exilor cioè la lotta tra del vecchio i manager della società che fa le lenti francesi su cui si sono fusi un anno fa probabilmente dice Corriere della Sera si arriverà a un arbitrato gran casino dunque nella più importante società diciamo di occhiali del mondo dove il patron italiano non vuole perdere il peso avendo il 31% di azioni lo capisco bene ma soprattutto lo scettro del comando direi che per oggi è tutto vi do appuntamento come sempre alla zuppa di domani e come sempre vi ricordo che sul sito nicolaporro.it ci sono tanti pezzi interessanti tra poco arriva uno straordinario Gervasoni che ci spiega il ritorno di Prodi ciao